Il weekend pasquale della Serie A si è concluso con l'ultima parte del girone di ritorno del turno numero 14 il giorno di Pasquetta. L'Inter conferma la sua leadership e si avvicina segue di più allo scudetto. I nerazzurri di Simone Inzaghi hanno battuto l'Empoli con il ponteggio di 2-0 con le firme tra primo e secondo tempo di Marco ed Alexis Sanchez. In chiave europea frena la Roma, fermato da uno splendido Lecce che per come è maturata la gara nei 90 minuti e passa alla Via del Mare avrebbe sicuramente meritato i tre punti. 1-0-0 che comunque non accontenta i giallorossi di De Rossi. In chiave salvezza ed anche in chiave europea importanti i verdetti. Sul primo obiettivo pareggi per 1-1 in Cagliari-Verona e Sassolo-Udinese, mentre per l'obiettivo Europa si avvicina sempre più bene la favola del Bologna che ha battuto la Salernitana per 3-0 con le firme di Orsolini, gol da Cinateca, Sele Mercers e Lico Giannis. Campani sempre più vicini alla Serie B. Nell'ottica della classifica dunque l'Inter ha 14 punti di vantaggio nei confronti del Milan a quota 65 mentre risale la quotazione dell'Atalanta dopo la vittoria sulla Napoli ed anche della Lazio mentre la Juventus continua nel suo momento di crisi.